Finalmente il Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere riapre i battenti grazie ad una convenzione tra Comune di Castiglione delle Stiviere, Associazione Proloco di Castiglione e la Croce Rossa Italiana. Questa convenzione risolve il problema, ripeto, sia burocratico che economico e garantisce la riapertura e la sopravvivenza del museo. Non ci accontentiamo di questo e quindi andremo a creare dei progetti di promozione che aiuteranno anche il turismo locale, io sono convinto, ma certamente avere la sopravvivenza di una struttura di questa importanza culturale è già molto. Tramite un finanziamento si è riusciti a garantire l'apertura del museo per almeno 30 ore settimanali, dal martedì alla domenica, così da continuare a diffondere i principi fondamentali che ispirano l'istituzione Croce Rossa. Mi corre l'obbligo di sottolineare il ruolo importante del Comune che provvede economicamente alla gestione operativa del museo, alla disponibilità degli altri enti locali, in particolar modo Comune di Solferino e Provincia, a contribuire economicamente in caso di bisogno. Mi corre l'obbligo di ringraziare particolarmente la fondazione dell'ospedale San Pellegrino di Castiglione che ha contribuito in maniera significativa alla riapertura del museo. Il museo sarà quindi un punto di riferimento importante per la valorizzazione del nostro territorio. Il Comune di Solferino e la provincia hanno detto che sono disponibili e confermano oggi la propria disponibilità ad investire per un progetto di promozione turistica che ovviamente porti maggiori risorse al museo stesso ma a tutto il nostro territorio in modo che i visitatori che si recano sui luoghi della battaglia di Solferino, sui luoghi che dal punto di vista paesaggistico sono tra i più apprezzabili della nostra provincia, possano anche coinvolgere nei loro percorsi il museo di Castiglione. Attraverso questa convenzione è stato fatto un grandissimo passo avanti ma occorrono ancora molti sforzi per valorizzare al meglio il Museo Internazionale della Croce Rossa. Ci metteremo tutto il nostro impegno e penso che quei 7.000 come numero che vi ho detto che rappresentano l'1% del bacino di utenza mantovano possano raddoppiare nell'arco di un anno se il lavoro verrà ben concepito, sarà un lavoro armonico. Tutti siamo protagonisti dello sviluppo perché giustamente sentiamo questo museo come museo della nostra coscienza, del nostro territorio, non solo Museo di Castiglione.